Cosa ci fa diventare pazzi per qualcuno? È lo stile, qualcosa di globale e non può essere parcellizzato. Aldo Busi non è riuscito a trattiene le lacrime durante l'incontro con i concorrenti della pupa e il secchione e viceversa. Tu credi di amare qualcuno perché ha quel nasino alla francese, si è conosso lo scrittore, ma non è vero, tu vuoi tutto. Vuoi il modo in cui quella persona respira. Busi ha fatto visita ai concorrenti del reality di Italia Un per dargli alcuni consigli sull'amore. Lo scrittore 71enne si è soffermato sul rapporto tra Mazzoni e Angelica, e solo amicizia, ha chiesto ai due ragazzi che hanno risposto di sì. Che delusione, ha dichiarato Busi che ha subito aggiunto, la bella e la bestia sono un connubio sessuale irrinunciabile. Grazie mille. Grazie a tutti.